Un saluto a tutti gli amici collegati, video di Betting Exchange, seconda parte della grande favorita in grafica su soccerstats.com, vedete Litsyrian, il campionato norvegese che vede ancora una volta grande protagonista il Brana 31 punti, nonostante il pareggio interno col Valerenga quattro giorni orsono, un Brana che si mantiene saldamente in testa e un Rosenborg che non è riuscito ad approfittare del pareggio interno col Valerenga da parte del Brana, è andato a perdere la giornata seguente a Tromso, quindi un Rosenborg ancora in difficoltà, in apparenza sembrava un Rosenborg prima dello scontro diretto del 27 di maggio col Brana in condizione buona, in una condizione ottimale per cercare di agganciare la squadra di Bergen in testa alla classifica 27 punti, il Rosenborg arrivava con 3 punti di ritardo per l'appunto sugli uomini di Dinsen, così non è stato, ha perso la grande sfida di Trondheim, è andato a meno 6, il Brana gli ha lasciato quantomeno nell'ultima giornata la possibilità di ridurre queste distanze, così però non è stato. Come vedete il Rosenborg è andato a perdere a Tromso, nonostante appunto il passo falso avuto dal Brana col Valerenga, passo falso relativo nel senso che il Valerenga è assolutamente un'ottima squadra e nel frattempo il Ranaim col Salzburg si è portato al secondo posto solitario, ha 26 punti e quindi un Rosenborg nel complesso. Se vogliamo rapportarci alla notorietà, alla potenza, alla tecnica della squadra di Trondheim assolutamente in difficoltà sotto le aspettative, ricordiamo che mediamente il valore di mercato del Rosenborg è superiore, quasi del doppio rispetto ad ogni singola altra squadra norvegese, quindi quello che sta facendo il Brana è assolutamente qualcosa di notevole fino a questo momento, vedremo se riuscirà a portare avanti questo grande campionato che sta sviluppando fino a questo momento, non ha mai perso e si accinge al giro di Boa, presumibilmente in testa, solo il Ranaim, secondo in classifica potrebbe scalfire questa certezza, ma è che quasi al sicuro il Brano dovrebbe perdere i prossimi due incontri, il Ranaim dovrebbe vincerli entrambi per scardinare il giro di Boa in testa da parte del Branaim. Questo in sintesi quello che possiamo dire per quanto riguarda l'elite Syrian, in pillole ovviamente, ma è bello studiare campionato per campionato, giocatori, allenatori, caratteristiche, quindi è una cosa che chi ha passione e chi ha voglia non gli pesa e gli piace farlo e poi soprattutto è importante farlo per giocare al meglio le partite poi nelle scommesse sportive da una parte e nel betting exchange dall'altra parte. Veniamo alla strategia o meglio alla seconda parte della strategia della grande favorita. Mettiamo un filtro, perché mettiamo un filtro, molto semplicemente perché non possiamo giocare in maniera nuda e cruda solamente la grande favorita nei confronti del suo avversario perché ha il doppio dei punti più uno, perché ad esempio rapportandoci all'elite Syrian, lo Stabek, quattordicesimo in classifica terzultimo, sarebbe grande favorito nei confronti del Sanderfjord. Perché? Perché ha il doppio dei punti più uno. Oggettivamente parlando però non possiamo giocare Stabek contro Sanderfjord valutando lo Stabek come grande favorito, sarebbe quantomeno strano come approccio. E quindi il filtro è molto semplice. Noi valuteremo la grande favorita o il grande favorito nei confronti del suo avversario qualora sia nella seconda parte della classifica. Quindi valuteremo grande favorito o grande favorita tutte le squadre dalla prima all'ottava posizione nei confronti di tutte le altre squadre dalla nona alla sedicesima posizione. Questo rapportato ovviamente all'elite Syrian. Per fare un esempio concreto, l'abbiamo fatto prima, lo Stabek non sarà grande favorito nei confronti del Sanderfjord. Viceversa, l'Augesund sarà grande favorito nei confronti dello Stabek. Il Raneim sarà grande favorito nei confronti dell'Irstrom. E quindi la parte fondamentale e importante è che sia compresa la seconda parte della classifica. Quindi dovremo valutare la prima parte della classifica, le prime otto squadre, nei confronti delle altre otto squadre dalla nona alla sedicesima posizione. Quindi il conteggio del doppio dei punti più uno varrà, in questo caso specifico, sulle prime otto in classifica nei confronti delle ultime otto in classifica, ovviamente con la caratteristica che ci sia il doppio dei punti più uno nei confronti per l'appunto delle squadre che vanno dalla nona alla sedicesima posizione, nel caso specifico dell'elite Syrian, ma ovviamente basta tagliare di netto la classifica in due parti. La seconda parte della strategia della grande favorita riguarda le ultime tre partite. Riguarda ossia il fatto che le ultime tre partite, in questo caso, come vedete dalla grafica del Lillstrom, ad esempio, il Lillstrom, nei confronti, ad esempio del Runeim, cioè se avessimo uno sconto tra Runeim e Lillstrom, il Runeim sarebbe considerato grande favorito. Questo perché il Runeim ha il doppio dei punti più uno nei confronti del Lillstrom. L'altro aspetto che vediamo in questo video è il fatto che nelle ultime tre partite il Runeim deve aver conquistato il doppio dei punti, non più uno, il doppio dei punti del Lillstrom. Quindi il Runeim, nel caso specifico, ha conquistato sei punti, come vedete dalla grafica. Il Lillstrom ha conquistato due punti e quindi abbiamo anche questo secondo filtro a livello tecnico-statistico. Tecnico perché ovviamente i punti sono anche rapportati a quello che ci indica e ci dice il campo. Questa è la seconda parte, quindi come vedete è molto semplice, molto banale, molto basilare, ma è da lì che si parte da basi semplici per poi avere delle giocate importanti. Quindi questa è la seconda parte della strategia della grande favorita. Nel prossimo video faremo un riepilogo di quello visto fino a questo momento e poi ovviamente andremo avanti perché la strategia ha delle altre condizioni. Quindi continuate ovviamente a seguirmi nel corso dei prossimi video che vedremo quali altre condizioni sono importanti per poter operare al meglio con questo tipo di strategia. Ovviamente se avete domande, dubbi, perplessità e quant'altro potete commentare quando e come volete. I commenti sono aperti a tutti, sono filtrati per ragioni semplicemente etiche perché talvolta si trovano commenti particolari, però ovviamente commentate, vi verrà approvato il commento nel giro di breve tempo e per l'appunto poi per qualunque cosa dei trading online a chiocciola gmail.com. Questa, come detto, è la seconda parte della strategia della grande favorita e poi ovviamente ci sono degli altri passaggi che vedremo prossimamente. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente appuntamento ai prossimi video.